La casa di Hiroshima debutta con il nuovo CX-30, un SUV coupé che si posiziona nel mezzo della gamma SUV Mazda tra CX-3 e CX-5, grazie ai suoi 4,39 metri di lunghezza. L'idea del design che sta caratterizzando le ultime creazioni della casa giapponese, come la Mazda 3, denominata Lazy Smore, viene riproposta anche su questa nuova vettura. La CX-30 sarà disponibile anche con trazione integrale, assieme alla nuova gamma di motori Skyactiv diesel, benzina e ibridi.